Buonasera a tutti, mi chiamo Guido Baroncini-Turricchia, sono un ingegnere ambientale. Per molti anni mi sono occupato di idrogeologia, sistemi informativi geografici, telerilevamento. Negli ultimi tre anni ho concentrato la mia attenzione su bitcoin e le monete matematiche. E cercherò di spiegarvi stasera perché per molte persone bitcoin è l'invenzione più rivoluzionaria di questo secolo. La prima volta che ho conosciuto bitcoin, che ho saputo di bitcoin, era il 2011. Lessi un articolo di giornale che recitava la bolla di bitcoin è esplosa. Lì per lì non ci feci molto caso, non mi interessavo di economia, le bolle sono qualcosa di negativo, quindi lasciai stare. Non lessi neanche l'articolo. Due anni dopo, nel 2013, lessi un articolo con un titolo praticamente identico. La bolla del bitcoin è scoppiata. Anoradissima, com'è possibile che una bolla possa scoppiare due volte? E quindi iniziai a indagare, a studiare di più. E la prima cosa che feci è cercare un grafico che rappresentasse l'andamento di bitcoin nel tempo. Quindi scoprì che nel 2010 valeva 4 centesimi per poi arrivare a 30 dollari nel 2011, per poi riscendere a 3, risalire e così via. In una scala logaritmica, che rappresenta meglio queste funzioni così particolari, notai che aveva sì un andamento crescente, ma con una volatilità enorme. E voglio capire di più perché la gente voleva questi bitcoin. E iniziai a leggere articoli su articoli, per giorni lessi articoli. La prima cosa che salta subito all'occhio, forse una delle più importanti, è che il numero di bitcoin è limitato. Mai se ne potranno creare più di 21 milioni. Voi direte, vabbè, è una cosa di poco conto. Ma se ci riflettiamo, fino al 2009, cioè prima della creazione di bitcoin, tutti i beni digitali, tutte le cose digitali, erano replicabili. Se avevamo un file musicale, ne potevamo fare quante copie volevamo. Bitcoin è l'invenzione che riesce a riprodurre la scarsità nel mondo digitale. E questo è la spinta, la molla, che spinge le persone a volere un pezzettino di bitcoin. E alcune persone pensano addirittura che sia migliore dell'oro. Perché? Facciamo un passo indietro, torniamo all'impero romano. Da allora e per duemila anni, il potere di emettere moneta era in mano a imperatori e governi. Imperatori che per secoli hanno mentito ai propri sudditi sulla quantità di oro e argento che era presente all'interno delle monete e governi che per motivi politici, motivi economici, ma anche motivi militari, aumentavano anche a dismisura la quantità emessa di moneta con la conseguente diminuzione di potere d'acquisto dei soldi di tutti i cittadini. Con bitcoin questo diventa del tutto obsolescente. Perché? Perché bitcoin è un software open source. Quindi tutti possono vedere quello che ci sta dietro, come funziona. E questo software riguardo all'emissione monetaria dice qualcosa di molto chiaro. Ovvero che l'emissione di bitcoin è prefissata, è immutabile ed è trasparente. Quindi niente cose tipo quantità di visi in gala Mario Draghi. Questo viene totalmente eliminato. E un'altra cosa che scoprì leggendo questi articoli è che il suo creatore era Satoshi Nakamoto, uno sviluppatore che rimaneva nell'anonimato. Perché questo? Perché tutte le persone che prima di lui, o anche gruppi di persone che avevano cercato di proporre dei sistemi alternativi di moneta, erano stati individuati e neutralizzati dai poteri centrali. Quindi quello che bisognava fare era agire nell'ombra fino a che il sistema non fosse stato sufficientemente decentralizzato, sufficientemente utilizzato, da poter essere effettivamente considerato resiliente contro qualsiasi tipologia di attacco. Tornando al paragone con l'oro, altra grossa comodità di bitcoin è che è possibile trasferirlo da una parte all'altra del mondo, in maniera quasi istantanea. E anche il confronto con i sistemi bancari tradizionali, ci ritroviamo con un algoritmo, un protocollo che funziona anche di notte, durante i weekend, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quindi si può definire bitcoin come una moneta digitale sperimentale, decentralizzata, che ha la capacità di trasferire valore a chiunque e ovunque nel mondo. Altra cosa che è abbastanza sorprendente è che è estremamente facile, ovvero uno basta che scarica un'app gratuita oppure un software gratuito e già è pronto per riceverli. Se li vuole inviare deve scannerizzare il QR code dell'indirizzo ricevente, decidere la quantità e nel giro di 10 minuti, dall'altra parte del mondo, questi bitcoin sono a loro volta spendibili. E una cosa importante, tutte queste transazioni dal 2009 ad oggi, tutte, nessuna esclusa, sono contenute all'interno della blockchain. Un libro mastro, un database, che ha la proprietà di essere completamente visibile a tutti. e è completamente decentralizzato, ovvero ne esistono migliaia di copie su migliaia di computer in giro per il mondo. Altra cosa, in ciascuna di queste piccole transazioni monetarie ci sono 80 byte, una piccolissima quantità. In questi 80 byte, ciascuno, chi fa una transazione, può inserire delle informazioni lì dentro. Si chiama hop return questa funzione. Voi direte, beh, insomma, poca cosa, 80 byte, che cosa ci si può fare? Però ricordiamoci che sono 80 byte all'interno di una struttura indistruttibile e indelebile. Quindi ci ritroviamo con un libro di storia scritto in maniera condivisa, trasparente e indistruttibile. Voi che cosa ci fareste? Beh, vi dico che cosa stanno facendo alcune start-up adesso in giro per il mondo. Alcune, fra alcune anche italiane, hanno pensato che sarebbe possibile disintermediare alcune istituzioni importanti come la CIAE o come gli uffici brevetti di tutto il mondo. E quindi stanno lavorando per creare dei servizi alternativi che utilizzano la blockchain di bitcoin per permettere questo. Altre start-up stanno cercando di risolvere un altro problema molto interessante non monetario, ovvero quello del voto elettronico. Voi sapete che ogni anno in Italia spendiamo più di 300 milioni, beh, ogni anno perché abbiamo le elezioni ogni anno, però ogni tornata elettorale costa 300 milioni di euro. E ci sono delle start-up che stanno cercando di utilizzare la tecnologia blockchain per permettere un voto elettronico sicuro, trasparente, ma che mantenga la privacy per chi sta donando. Quello che a me, a noi è stato più a cuore, è stato considerato più interessante di questa tecnologia è appunto la trasparenza. Abbiamo pensato che cosa succederebbe se le organizzazioni che ricevono donazioni potessero offrire ai propri donatori la possibilità di vedere effettivamente che cosa fanno con questi soldi. Cosa succederebbe se un donatore potesse decidere a quale organizzazione mandarli e vedere effettivamente che cosa sta facendo. Quindi decisi di prendermi un po' di tempo per scegliere le persone adatte a questo progetto e insieme disegniamo questa piattaforma per la trasparenza a favore dei donatori. Il primo problema che ci si pose davanti era che i portafogli bitcoin più classici hanno una sola password, quindi non sono particolarmente adatti alle organizzazioni, alle ONG. Quindi abbiamo sviluppato una tipologia di portafogli più sicura che evitasse la possibilità di inside job, di furti, del fatto che qualcuno si possa perdere una chiave, quindi dei portafogli di tipologia chiamati multi-signature, multi-firma. Altra cosa, degli strumenti, creare degli strumenti per le organizzazioni che potessero utilizzare quell'op return che abbiamo visto prima, quindi che potessero facilmente inserire le informazioni riguardo alle cose che comprano, i beni e i servizi che comprano per i loro progetti, inserirli all'interno della blockchain. Questo è un esempio dell'ultimo terremoto che è avvenuto in Italia il mese scorso, il 24 agosto, e qui daremo la possibilità ai donatori di filtrare le organizzazioni che ricevono le donazioni in funzione di vari parametri, come il livello di trust, la trasparenza, l'area dove è avvenuto l'evento. A questo punto le organizzazioni decideranno il loro livello di trasparenza su, e decideranno se utilizzare gli strumenti per inserire le informazioni all'interno della blockchain. Successivamente i donatori potranno effettivamente vedere con i nostri strumenti che cosa succede all'interno della blockchain, come si spostano questi soldi. Il problema della trasparenza è un problema che esiste anche in altri settori, come quello assicurativo. Nel settore assicurativo quello che stiamo cercando di fare sono degli smart contract, dei contratti intelligenti, che saranno in grado di spostare, in caso, noi lo stiamo facendo per i terremoti in questo momento, di spostare il pool of funds, le polizze che sono all'interno di questo fondo comune, in maniera automatica e trasparente in funzione di parametri. Quindi se l'utente si trova a x chilometri dall'epicentro di magnitudine y e con caratteristiche riguardo agli edifici di un determinato tipo, riceverà una determinata quantità di denaro. Come vedete le persone cercano sempre più indipendenza e libertà e noi, come le altre start-up di questo settore, abbiamo una visione comune che è quella di mettere al centro gli utenti, i cittadini, e offrire un mondo più decentralizzato e trasparente. Grazie. Grazie.